Cari amici, buonasera e buona pausa dello spirito a tutti. Quest'oggi voglio parlarvi di un tema, di un argomento, del quale non sono così profondo conoscitore. O perlomeno era un tema che non mi aveva mai appassionato così tanto, cioè quello del ruolo della massoneria in Italia. Il ruolo della massoneria. E' già sbagliato, perché in realtà dovremmo dire il ruolo delle massonerie in Italia. In realtà anche questa definizione è poco corretta, perché? Perché io ho studiato il ruolo delle massonerie soltanto in un piccolo lasso temporale, quello che va dal 1943 al 1950. È un piccolo periodo, ma è un periodo nel quale la confusione regnava sovrana. Siamo nel periodo successivo, immediatamente successivo, alla caduta del governo di Mussolini e all'armistizio dell'8 settembre 1943. L'Italia divisa in due, a fatica si riesce a liberare la capitale, Roma, nel giugno del 1944, e a fatica si riprendono le attività connesse ai partiti, ai movimenti, alla libertà, alla democrazia. Ecco, proprio in questo difficile contesto di guerra, di occupazione e di liberazione, si colloca il mio studio. Lo studio è un libricino, ecco, ve lo mostro. Questo è il testo, obbedienze e disobbedienti per una storia delle massonerie nell'Italia del dopoguerra, 1943-1950. Questo libricino è stato fatto, sono soltanto 180 pagine, grazie all'invenimento di una serie di documenti inediti. Inediti ed importanti. Perché? Perché sono documenti dei servizi di intelligence, chiamiamolo così, il servizio militare italiano di quegli anni, che appunto mettono a fuoco, mettono a fuoco, quanto stava accadendo nel composito, variegato, universo massonico italiano. Allora, andiamo, cerchiamo di andare con ordine e di spiegare in questi pochi minuti le cose essenziali per comprendere questo tipo di lavoro. Dunque, con la liberazione di Roma, giugno del 1944, le varie famiglie massoniche che si erano disperse durante il fascismo, perché il governo di Mussolini aveva sciolto entrambe le due massonerie nel 1925, ecco, con la liberazione di Roma e l'avvento degli alleati, le massonerie riescono a, provano diciamo così, a rigiocare un ruolo nella società italiana. Ma se prima erano divise in due grandi, importanti loci, il Grande Oriente d'Italia e la Gran Loggia Nazionale, facevano riferimento a due figure estremamente importanti, Torrigiani e Raul Palerni, ecco, nell'immediato dopo guerra, queste due grandi famiglie massoniche si sono addirittura frantumate in una miriade di piccole longe, che facevano riferimento a qualche esponente massonico che era sopravvissuto dalla clandestinità del fascismo. C'è ancora il Grande Vecchio, il Grande Vecchio Raul Palerni, colui che aveva fatto, era stato dietro al più importante scisma massonico italiano e che poi aveva creato quella importante massoneria che prendeva il nome, no? Piazza del Gesù, che si contrapponeva all'altra di Palazzo Giustiniani. Quindi Piazza del Gesù, la massoneria di Raul Palerni, contro la massoneria di Palazzo Giustiniani di Torrigiani. Bene, questa contrapposizione seguita anche dopo la caduta del fascismo e dopo la liberazione di Roma e poi la liberazione d'Italia, l'avvento della Repubblica e della democrazia. Da una parte il Grande Oriente d'Italia, l'erede di Palazzo Giustiniani e di Torrigiani, riesce in qualche maniera a ricostruirsi con qualche difficoltà, ma in maniera più lineare. Intorno all'ex massoneria di Piazza del Gesù, invece, ci sono numerosi contrasti. Le carte che io ho messo a disposizione dei lettori, degli appossionati di questo tema così ricco e coinvolgente, provengono appunto dalle inchieste che conduce l'ufficio I dello Stato Maggiore Esercito. Che cos'è l'ufficio I dello Stato Maggiore Esercito? Beh, l'ufficio I è il servizio segreto. Non si chiama più SIM per le polemiche politiche che il SIM si era portato dietro. E non è ancora quello che diventerà il servizio importante delle forze armate italiane, SIFAR. Il SIFAR nasce solo nella prima metà del 1949. Quindi dal 1944 al 1949 il servizio segreto militare italiano si chiama ufficio I, ufficio informazioni. In qualche maniera è un nome che maschera la reale importanza di questa intelligence militare. Ma l'intelligence militare non indaga soltanto le vicende connesse al segreto militare o al controspionaggio militare, alla sicurezza dello Stato. In effetti attengono alla sicurezza dello Stato, o meglio dire delle istituzioni, anche le attività connesse alle vicende politiche, ai partiti politici, ai movimenti, fino anche allora alla massoneria. Quando i nuovi uffici di informazione dell'esercito cominciano a indagare su quale sia il ruolo della massoneria e quante siano le massonerie, in realtà si debbono mettere le mani nei capelli, perché si assiste a una scissione continua. Pensate che a un certo momento, nel 1946, poco prima del referendum istituzionale, in Italia esistevano 17 massonerie. una contro l'altra. Erano organizzate in modo tale da farsi la guerra a vicenda. Per questo si capisce facilmente come un numero così eccessivo di famiglie massoniche non potesse poi di fatto avere alcun peso specifico all'interno della società politica dello Stato che si stava cercando di realizzare. Cioè la massoneria ha perso tutta quella influenza, quel ruolo propositivo che in realtà fino al 1925 aveva giocato, aveva giocato anche con discrizioni, aveva giocato anche in modo piuttosto incisivo. Non ce l'ha più, perché le massonerie in Italia erano attanagliate da molti contrasti. litigavano per la legittimità, cioè chi è che rappresentasse la vera, legittima tradizione massonica in Italia. Litigavano per il riconoscimento da parte della importante loggia americana che riconosceva appunto le massonerie nei vari paesi. Litigavano per il prestigio e la tradizione che essi potevano continuare a framandare nel paese dopo venti anni di forzato silenzio. Ecco, si litigava anche a livello personale. Le diatribe erano all'ordine del giorno. La figura di Raul Palermi poi si è rivelata, se da un lato carismatica, dall'altro divisoria nell'universo massonico. Forse rappresentava una fase storica che era definitivamente tramontata. Allora, i servizi militari, l'ufficio I, continuano a indagare tutte queste vicende che ci raccontano la massoneria italiana dal 44-45 fino al 48-49. Hanno notizie diverse e disparate. L'indagine più importante però la fornisce uno dei poliziotti più importanti del nostro paese. Questo poliziotto si chiamava Giuseppe Dosi. Era un vicequestore. Era un vicequestore che aveva avuto un ruolo molto importante nella direzione degli affari generali della polizia italiana a partire dal 1914 in poi. Poi cade in disgrazia. cade in disgrazia, ne vengono criticati molti atteggiamenti, gli umori, le intemperanze. E allora finisce per essere allontanato dalla capitale e passa da città importanti come la Spezia a città più piccoline come a Foligno e infine a Basto. A Basto, il sistema forse nervoso del commissario Giuseppe Dosi non legge più e lui ipotizza di uscire dalla polizia. scrive un lungo libro delle sue memorie ma il libro viene inoltrato dalla tipografia della città del Basto al capo della polizia Bocchini e Giuseppe Dosi viene dispensato dal servizio per il bene del servizio stesso. Addirittura a causa del suo forte esaurimento nervoso Bocchini lo fa internare in un in un manicomio. C'esce soltanto povero Dosi con la morte di Bocchini il nuovo capo della polizia senise recupera questo valente funzionario DPS tanto che negli anni della liberazione di Roma dal 43 al 44 Giuseppe Dosi presta numerosi servizi importanti per gli alleati gli alleati lo reclutano subito in particolare gli americani e la CIA si serve molto dei servizi i servizi segreti americani per meglio dire l'OSS si servono a lungo della dell'opera di Giuseppe Dosi fin quando poi viene completamente riabilitato reintegrato nella polizia dello stato italiano e poi finirà per dirigere anzi per meglio dire per fondare l'Interpol sarai l'uomo che crea nel nostro paese l'Interpol bene Giuseppe Dosi nel 46 è l'uomo che compie una vasta operazione di intelligence all'interno di tutte queste massonerie lo scisma continuo si potrebbe dire questo è l'aspetto più più profondo del libro perché perché è quello in cui Giuseppe Dosi ha la capacità per poter verificare tutti gli aspetti che in qualche maniera caratterizzano e differenziano le persone e le varie loggie massoniche le conclusioni di Giuseppe Dosi quali sono seguitano aperte le inclinature non c'era niente da fare fino al 1950 in Italia in Italia continuano a esistere a scontrarsi a operare più di 14 loggie massoniche non hanno quindi un peso nella costruzione della Repubblica e dello Stato italiano successivo con l'approvazione della Costituzione e le prime leggi le prime scusatemi le prime elezioni politiche del 48 è stata una pagina difficile controversa per le massonerie italiane tuttavia gli uomini non erano tutti impostori o truffaldini come spesso i servizi di sicurezza e la polizia stessa cercavano di mettere in evidenza ed in guardia gli italiani molti massoni tenevano fede ai loro giuramenti alle loro pratiche ai loro riti e grazie a molte di queste persone nonostante questa enorme divisione questa difficile composizione che la massoneria italiana ha attraversato il periodo più difficile della sua esistenza quello della ricostituzione e a partire dagli anni 50 in qualche maniera le logge più importanti le due famiglie massoniche più importanti hanno cercato di pur seguendo le proprie strade riprendere un cammino propositivo fattivo utile per l'uomo